ciao a tutti oggi vediamo con il pirografo prempiter e la regolazione della temperatura come fare dei semplici sfondi prima di tutto ho fatto su questa tavoletta di compensato il disegno in silhouette di una tigre e ora lo sto riempiendo facendo una sfumatura proprio leggera leggera per dare un po di volume alla figura sto usando una punta piatta con una temperatura molto molto bassa e dappertutto cerco di dare questo questa velatura un po più scura rispetto al colore del legno ora invece ho aumentato la temperatura si vede anche il fumo e brucerò la parte proprio del limite del legno per fare una specie di cornice a questo disegno vediamo che quella temperatura è piuttosto alta immediatamente si brucia non faccio un tratto regolare ma volutamente così un po approssimato proprio per dare l'impressione che sia una bruciatura naturale così vado a creare una sorta di cornice a questo disegno della tigre grazie a tutti ecco qui l'effetto finale spero che vi sia piaciuto ora invece ho preparato il disegno con il viso di Marilyn Monroe e piano piano lo vado a riempire anche questa è una silhouette utilizzo la punta piatta perché mi è più comodo vediamo che pian piano si sta delineando la figura una volta finito il disegno con una temperatura molto leggera ho fatto una velatura tutta intorno alla figura il contrario della tigre anziché all'interno all'esterno qui vediamo altri lavori fatti in precedenza vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto sul nostro sito elettronicadidattica.com per pirografi e accessori continuate a seguirci sul nostro canale elettronica didattica alla prossima ciao a tutti vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione per l'attenzione video